La frontiera è chiusa, ci avevano detto che era aperta ma era una menzogna. La disperazione di Nejip, afgano, è quella di tutte le persone che, come lui, hanno cercato di attraversare il confine fra Turchia e Grecia per entrare in Europa via terra e sono stati fermati. Secondo gli ultimi numeri riferiti dalle autorità greche, 10.000 persone sono state fermate alla frontiera. I soldati greci sparano in aria, anche quando ci sono i bambini, ci prendono tutto, soldi, telefono, denuncia quest'uomo che si sta muovendo con tutta la famiglia e i bambini piccoli. La situazione sta diventando sempre più ingestibile anche nel campo di Lesbo, dove ormai ci sono oltre 20.000 persone in un posto che potrebbe ospitarne 2.000. Le condizioni sono insostenibili, una situazione sempre più tesa anche con la popolazione locale. Nella notte degli abitanti hanno dato fuoco a un centro di accoglienza sulla spiaggia in cui venivano accolti i migranti prima di essere smistati.